Oramai 22 anni che sono eletto in consiglio comunale, mi appresto a presiedere questa seduta in virtù di consigliere anziano, un po' perché sono 20 davvero e un po' perché sono unito al consigliere che per numero di voti e per numero di preferenze sono stato più votato dai cittadini acquisiti. Ed è anche con orgoglio che l'inizio ad una consigliatura che mi auguro possa essere positiva per la città di Atmi sia in termini propositivi sia in termini risultati che possa risolvare le sorti del nostro Atmi, finalmente ricollegata all'eponimo Terme, un gioco di squadra che mi sollevi la cappa che sopiva l'Aqui. Ecco i progetti che il sindaco e l'amministrazione andranno ad effettuare. Una precedenzione ancora personale, ho ritenuto, mi hanno chiesto tante persone, nonostante i voti che abbia, che ho ricevuto, ho ritenuto di non entrare in giunta, nonostante il sindaco me l'abbia chiesto come prima cosa, in quanto nella nuova maggioranza troveremo cinque consiglieri che hanno già fatto appunto consigliere o assessore e cinque vi definirei mio entri. Visto che solitamente, già nei tempi del mio primo partito di appartenenza, l'avvicendamento è sempre avvenuto per decesso, ho pensato come opportuno di precorrere i tempi e di lasciare il posto adatti. Presenti 17 votanti, 16 in presenza e una collegata, quindi 17, hanno ottenuto voti Bertiero, voti 11, Gallizi, voti 6. Quindi visto il rischio della votazione, visto il parere favorevole per quanto attiene alla volontà tecnica, proclambo, eletto Presidente del Consiglio, Murali e Signore Enrico Silvio. Grazie, grazie signor sindaco. Mi auguro, credo, mi impegno a essere il più possibile superpartes. Grazie. Grazie a tutti.